Il pensiero che ci accompagna durante tutto l'anno e soprattutto in questi momenti di festa, perché la festa non manchi a nessuno e non manchi mai, soprattutto in questo giorno che per noi materani c'è qualcosa di molto bello, perché guardiamo alla nostra madre celeste, Maria, che si mette in viaggio per raggiungere la sua cugina Elisabetta e portare l'annuncio stupendo che il servo dei servo, il figlio di Dio ha posto la sua dimora in mezzo agli uomini e lei, serva sollecita, porta al cuore di tutti gli uomini la parola del servo, anzi il servo che si fa parola. La nostra madre celeste ci spinge ad uscire da noi stessi per andare incontro ai nostri fratelli e portare la festa che è il segno più bello dell'amore di Dio in mezzo a noi. Quotidianamente fra le due mense, la mensa Don Tonino Bello e la mensa della Fraternità Don Giovanni Mele si preparino circa 450 pasti, fra gente che usufruisce del pranzo rimanendo in mensa e anche gente e famiglie che prendono il pranzo da sporto. Siamo nella mensa che accoglie in questa giornata speciale, ma non solo oggi, tante persone che nel loro momento di bisogno trovano un sorriso, un pasto, un momento di convivialità. Com'è la giornata di un volontario qui? Noi facciamo i turni, c'è chi viene alle otto e mezza e va via alle undici, io di solito vengo verso le dieci e vado via alle due meno un quarto, una e mezza. Iniziamo a pulire le verdure, a lavare la frutta, a preparare perché c'è anche la cuoca, se bisogna d'aiuto aiutiamo anche in cucina, facciamo tutto. C'è chi apparecchia, collaboriamo tutti. La cosa bella è che c'è collaborazione e ci vogliamo tutti bene. In un giorno come questo qual è il menù per la festa? Abbiamo fatto le tagliatelle e poi c'è la carne, la pizzaiola, la frutta. Signora Giulia, ancora un'altra festa della Bruna qui, che cosa rappresenta una festività come questa in questo luogo di accoglienza? In questo luogo così meraviglioso, dobbiamo dire, che Francesco Tamburrino è stato veramente grande, ha fatto costruire sia lui che gli altri questa bella menza, così accogliente, così bella e piace a tutti. Tutti quelli che vengono proprio danno gioia vedendo questa menza che lui ha fatto. Che cosa rappresenta per lei trascorrere questa giornata in particolare qui? Sì, rappresenta 24 anni di lavoro che ho sempre fatto e loro che stanno bene, loro si siedono in quattro, mangiano, parlano, discutono e poi vanno via, stanno tranquilli, educati, molto educati. Per noi va bene, siamo contenti di lavorare per loro, per donare a loro. Tutto questo nel nome di suo fratello? Di mio fratello, sì. Lui è stato quattro anni a lavorare, poi è deceduto e va bene, ma lui era felice, proprio era la sua felicità. Era piccola l'ambiente, però ha cercato di fare tanto, tanto, tanto. E ci è riuscito. Ecco, e abbiamo continuato, ringraziando il cielo che ci ha dato la provvidenza di andare avanti. Questo è molto importante. Da volontaria di questa realtà, che cosa significa l'accoglienza attraverso il cibo, la condivisione del pasto, un momento conviviale, soprattutto in un giorno come questo? Allora, questo è un momento speciale per noi, soprattutto oggi, ed è uno scambio con i nostri ospiti. Non è soltanto uno scambio di movimento e di un pasto, ma è anche un ascolto, una parola, un supporto, e soprattutto anche un sorriso per persone come loro che hanno diverse difficoltà. Questo è un posto che è stato benedetto anche da Papa Francesco, che è stato qui. Qual è stata l'emozione per voi? L'emozione per noi, quando ci è stato a far visita a Papa Francesco, è stata molto emozionante. Lui è stato molto contento per aver visto che per fare delle azioni buone per il popolo, Materano. Una giornata come questa ci ricorda che tutti possiamo fare qualcosa per contribuire ad un momento di solidarietà e di accoglienza. Come? Certo. A volte basta anche un sorriso. C'è bisogno di offrire del materiale o del tempo, come facciamo noi. Noi siamo dei volontari che ogni giorno offriamo la mezza e saremo un po' pochi. Chiederei di coinvolgere la città di Matera in questo evento della festa della Bruna, se c'è qualche altro volontario che ci offrisse del tempo, oltre del materiale che ci viene offerto. Ma anche un sorriso. A volte ne abbiamo bisogno. Grazie. 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 Grazie.